Quanti tramonti stiamo perdendo, e quanti altri ancora ne perderemo? Eravamo liberi di conoscerti, di toccarti. Ci sono persone che dicono che la cucina è come musica, architettura, scopcia, ma non è arte. Tra i primi a salutare il nostro arrivo sono questi esemplari di Platax, più noti come pesci pepistrello. Per nulla timidi danzano intorno alle nostre telecamere, mettendo in mostra le grandi pinne e le loro evidenti striature verticali. Sui nuovi autobus CTM viaggiano persone speciali, ogni giorno in prima linea, come Gianmarco, addetto antincendio e gamer. Luisa, studentessa in medicina e DJ. Non sappiamo quando potremo riabbracciarci, ma quando succederà scopriremo un altro sapore. E per quanto durerà questo momento difficile, noi continueremo a fare ciò che sappiamo fare meglio. Chiedi al tuo barista il cappuccino e iSmile nella Comoda Cup Takeaway. È nata la pasta Ercole.0, l'unica di filiera sarda al 100%, certificata dal grano alla tavola. Scopri il nuovo gusto cellino nel tuo supermercato di fiducia. Ci sono diversi variazioni, ma questa è una buona buona. Scopri il bacone, buoni artichocchi e una crema irresistibile crema di egg e cheese. Soft, juicy and wrapped in egg crispy brise pastry, the Kotakina pie will be a guaranteed successful second course. Il corso è articolato in cinque sezioni, che comprendono 20 unità, alle quali sono collegati i 20 percorsi tematici interdisciplinari. Delle volte ci sentiamo oppressi dalla nostra vita quotidiana, prigionieri dei nostri automatismi, ad inseguire il tempo che non è mai abbastanza. L'unica faccia ancora intera e sincera, ci ha portato il Natale, con i suoi occhialini e la sua barba bianca. Wines, Ligui e Spirits of Sardinia, made in the wild. Silvio Carta, è ora che gli abbracci sono armi, tocca a noi difendere il tempo più prezioso. Quello che ci rimane con loro, oggi l'amore è stare lontani, per stare più vicini domani.